Secondo il sito web del gioco, Starfield uscirà l'11 novembre 2022. In altre parole, manca più di un anno. Oltre alla data di uscita, è stato anche rivelato il primo vero trailer del gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda Game Studio e Xbox. Come ricorderete, Starfield è stato rivelato alle 3 2018 insieme a The Elder Scrolls VI e molto prima che Xbox acquisisse Bethesda. Detto questo, all'epoca, il trailer di rivelazione non era altro che un teaser trailer molto vago e poco rivelatore. In altre parole, questo è il nostro primo sguardo al gioco che si dice abbia molti anni di lavoro. Oltre ad essere in lavorazione da molto tempo, Starfield è il primo nuovo franchise di Bethesda Game Studio in oltre 25 anni. Starfield sarà disponibile tramite Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Se la notizia ti è piaciuta, lascia un like e un commento.